C'è del ramarico, volevamo vincere, volevamo portare via i tre punti, diciamo che rispetto a loro abbiamo avuto molte più occasioni da gol, gli episodi non sono girati a nostro favore, però comunque non abbiamo subito praticamente nulla, non abbiamo subito neanche un tiro in porta, quindi comunque abbiamo portato via dei punti, abbiamo dato continuità, dei risultati positivi e questo è importante. Secondo me ho avuto la pecca magari di volerla incrociare, volerla angolare, forse dovevo colpirla piena, diciamo che ero anche quasi convinto già di segnare, però non è andata bene, girerà la fortuna speriamo di nuovo dalla mia parte. Sì, sono contento, adesso comunque sto trovando continuità dopo un periodo difficile anche perché quando è arrivato il mister ho trovato difficoltà per un po' di partite, non ho giocato, poi sono entrato a partite in corso, poi fortunatamente partita scorsa col Padro mi sono fatto trovare pronto, ho segnato e fortunatamente sto dando il mio contributo e stiamo trovando risultati positivi. Ci sono ovviamente aspetti negativi e aspetti positivi, l'aspetto positivo ovviamente è che è una squadra in difficoltà e quindi noi magari dovremo cercare di accentuare i loro lati negativi, però l'aspetto ovviamente negativo è che devono per forza anche loro fare risultato perché comunque mancano ancora tante partite e un campionato così equilibrato può succedere qualsiasi cosa sia in negativo che in positivo da un momento all'altro, quindi dovremo fare una grandissima partita. Diciamo che domenica ci è mancato forse magari quella cattiveria sotto porta io per primo per far entrare questa maledetta palla anche perché le occasioni obiettivamente le abbiamo avute, nel secondo tempo poi magari è prevalsa un po' la stanchezza, magari anche un po' la paura perché era una partita in cui ci giocavamo tantissimo di tutte e due le squadre, poi comunque secondo me il Sant'Arcangelo ha fatto una partita attenta, ordinata, comunque sì secondo me ci manca quel pizzico magari di cattiveria sotto porta per buttare dentro la palla.